Ehi ehi, io sono MitoCitoFd5 e oggi siamo qui in un nuovo vlog. Questo è il vlog speciale per ringraziarvi del traguardo che avete fatto raggiungere. Era un traguardo che avevo intenzione di raggiungere, voi mi avete aiutato a raggiungerlo e abbiamo raggiunto i 5.000 iscritti e per me è fantastico, è un piccolo traguardo. Si parte sempre dal piccolo e poi si arriva a dove si può arrivare. Adesso non so dove si può arrivare, comunque non facciamo i progetti futuri così tanto per fare. Facciamo un prossimo traguardo a 6.000 iscritti, quindi abbiamo raggiunto questo traguardo e va benissimo. Avevo promesso sulla pagina Facebook, chi non mi segue, vi consiglio di seguirmi se volete rimanere un po' aggiornati, che quando avremo raggiunto il traguardo dei 5.000 iscritti avrei fatto 30 video di EvoTrack Simulator 2 in 30 giorni. Quale migliore occasione di San Valentino per partire? Partiremo il 14 febbraio, arriveremo il 14 marzo, sono 30-31 giorni, buono lo so, è un mese comunque, un mese più o meno è un mese. Faccio questi video, quindi partiremo il 14 febbraio con dei video che già avevo pronti, quindi finiremo i viaggi che già avevo registrato e poi andremo avanti con gli altri viaggi. Io spero che l'iniziativa vi piaccia, in più usciranno i normali video delle altre serie, cioè non è che trascurro tutto il resto, usciranno dei video al giorno, EvoTrack Simulator 2 uscirà ad orari sempre diversi, non lo metterò mai nello stesso orario, quindi quando esce, boom, non lo so, dovete un po' impegnarvi anche voi. Vi annuncio anche una piccola novità che arriverà sul canale, è un gioco che unisce le esperienze di EvoTrack Simulator 2 all'esperienza di Falcom 1 2014, voglio vedere se vi piace, ecco il G27 comunque, spero che vi piaccia. Finissiamo questo vlog e noi ci vediamo con i prossimi episodi, ciao!